Il nostro indagare, il nostro cercare di comprendere meglio il discernimento, che devo dire è un argomento che sta non solo interessando il sottoscritto e quindi poiché mi dà l'opportunità questa nostra occasione di incontro, di approfondire il discernimento, ma veramente tante persone sono interessate, coinvolte da questo nostro argomento e per questo io voglio ringraziare per le loro email, per i loro suggerimenti. Io chiaramente quello che posso dire è che cerco sempre di rispondere un po' a tutti, sia privatamente ma anche qui attraverso questo nostro incontro, ma con pazienza, con pazienza. Dicevo, il discernimento come abbiamo visto è una cosa seria, è un'arte e tutto ciò che riguarda l'anima, tutto ciò che riguarda la sfera più intima della persona, la coscienza, tutto ciò che riguarda la libertà della persona, va fatto non solo seriamente ma anche con tanta tanta delicatezza e questo è importante. Il discernimento ha bisogno di un'atmosfera, ha bisogno di un'ambiente, di un'ambientazione se così posso dire. Qual è il silenzio? Un silenzio orante, cioè un silenzio in cui io devo potermi mettere in contatto non solo con lui ma anche con me stesso perché vedete come pretendo di ascoltare lui se non riesco ad ascoltare me stesso e l'ho detto e lo ripeto. È un argomento ed è un modo difficile, una situazione difficile quella in cui spesso noi ci troviamo e dobbiamo ascoltare noi stessi. Ascoltare se stessi non sempre è facile, non è facile perché siamo coinvolti emotivamente, non è facile perché facciamo fatica ad uscire dai nostri progetti, dalle nostre ambizioni, dalle nostre paure e non è facile ma è indispensabile. Il silenzio orante è appunto un silenzio in cui non solo si prega ma si ascolta. La preghiera non è solo un parlare, non è solo recitare delle formule, è un entrare in sintonia, è un vivere una intimità con il Signore, è vivere una relazione. Quindi in questo silenzio in cui io mi ascolto, in cui io ascolto Dio, in cui io vivo la mia relazione con il Signore, bene in questo silenzio io posso fare discernimento, cioè dividere i miei progetti dai progetti di Dio per far sì e per vedere se i miei progetti sono veramente quelli di Dio oppure sono illusioni, le illusioni che appunto, come abbiamo visto, il male, il maligno crea in ciascun uomo. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao! 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 Autore dei sovrapposti